Il gruppo Aerea in questi anni ha realizzato interventi significativi per il risparmio energetico. Il beneficio complessivo pare a un risparmio di circa 740.000 tonnellate equivalenti di petrolio. Come sono stati ottenuti questi risparmi? Sia lavorando all'interno del gruppo, quindi facendo efficienza sui processi e sull'attività industriale del gruppo, sia lavorando con i clienti di tutti i tipi. Abbiamo strutture che operano presso le aziende, le aziende di processo e consentono di ottenere risparmi energetici presso le aziende. Abbiamo presentato negli anni progetti che coprono la metà del risparmio energetico complessivo. Aiutiamo i clienti a sviluppare la cogenerazione industriale. In questi anni, fra la cogenerazione sviluppata presso i clienti e le attività cogenerative interno del gruppo, abbiamo circa 150 MW energetici installati in cogenerazione industriale. Operiamo con il mondo dei condomini, aiutando gli amministratori sul servizio energetico a ridurre i propri consumi, ma anche con cappotti e illuminazioni a ridurre complessivamente il fabbisogno del building. Un'altra attività molto importante che abbiamo portato avanti in questi anni riguarda la pubblica amministrazione. Gestiamo circa 5.000 impianti di riscaldamento della pubblica amministrazione e sempre nella pubblica amministrazione operiamo per quanto riguarda l'illuminazione pubblica con complessivamente circa 500.000 punti luci gestiti, portando anche qui innovazione e efficientamento nel passaggio dalle lampadine all'illuminazione tradizionale alle lampade a LED. Oggi la difficoltà principale per portare a casa risultati in progetti di efficientamento energetica è legata alla complessità di questi interventi. Quando lavoriamo presso le grandi aziende è necessario sicuramente il commitment dell'azienda nel ricercare lo spreco energetico, ma è anche altrettanto necessaria la flessibilità e l'interdisciplinarità nel trovare gli elementi che nell'ambito del processo produttivo possono portare a questi benefici. Quindi la somma di questi due elementi ci porta spesso a trovare delle iniziative che hanno dei tempi di ritorno, anche grazie al contributo importante dell'incentivazione dei certificati bianchi che coprono una parte significativa di questi interventi e senza i quali diventa difficile poter sostenere molti interventi, si ottengono dei risparmi energetici considerevoli. In questi anni uno degli elementi che ha caratterizzato tutte le iniziative che abbiamo portato avanti è la concretezza degli elementi. Quindi il fatto di lavorare insieme con i clienti, individuare soluzioni pratiche, semplici, per i clienti che magari non erano così pratiche e così semplici inizialmente, quindi di tradurre la complessità in semplicità trovando degli elementi molto concreti per intervenire. Oggi lo stiamo facendo per esempio su tutto quello che è un filone nuovo che è il cambiamento dei comportamenti. Il risparmio si può ottenere sia attraverso interventi che richiedono investimenti, ma se pensiamo al settore residenziale che assorbe circa il 20% dei consumi di energia elettrica e di gas a livello italiano possiamo vedere come i comportamenti dei clienti e dei consumatori possono incidere significativamente sul risparmio energetico. È un filone nuovo, un filone sul quale stiamo lavorando già da diversi mesi, è un filone che passa attraverso due elementi. Una richiesta importante da parte dei clienti di poter risparmiare e di far bene all'ambiente, la sensibilità ambientale sta diventando un fenomeno rilevante nei nostri interlocutori e dall'altro lato la loro difficoltà a comprendere quali sono le leve da agire per ottenere questi risultati. Leve che non sempre sono quelle di investire cambiando gli elettrodomestici o intervenendo sul building, ma molto spesso sono leve che agiscono sui comportamenti che possono portare benefici significativi anche superiori a quelli degli interventi di acquisto di elettrodomestici più efficienti o di interventi di coibentazione o di investimento sulle caldaie. Questi elementi spesso sono nelle mani dei nostri clienti ma non hanno la consapevolezza su come intervenire. Noi stiamo agendo per creare questa consapevolezza dei consumi e per dare loro gli strumenti anche grazie all'Internet delle cose, della tecnologia, che ormai sono strumenti che hanno un costo di pochi euro o poche decine di euro, che permettono di misurare i consumi e di avere una maggior sensibilità della correlazione causa-effetto anche rispetto alle azioni che vengono messe in campo. La grande attenzione che si è sviluppata nel settore dell'efficienza energetica soprattutto in questi anni è stata in qualche modo catalizzata dal sistema incentivante. Il sistema incentivante che ha permesso di trovare delle iniziative sostenibili dal punto di vista economico anche in quei casi che nel passato non erano stati affrontati proprio perché il risparmio energetico non consentiva in termini monetari di sostenere l'investimento. Oggi questo sistema incentivante è uno dei sistemi più efficaci per ridurre l'impatto ambientale a livello italiano. è quello che ha il miglior costo in termini di rapporto fra TEP evitate e costo dell'incentivo, ha un impatto a livello complessivo italiano molto limitato ed è un fattore abilitante di questo sviluppo del risparmio energetico.